Iniziamo con la top 10 dei tuffi più pazzi del mondo al numero 10 scivolo più tuffo una combinazione da paura Al numero 9 possiamo vedere come si può approfittare di un bel fiume Per il numero 8 ci trasferiamo in Thailandia Le ragazze non sono da meno, guardate un po' questa compilation Le Hawaii ovviamente non potevano mancare Mentre in Giamaica Anche la Bosnia riserva delle sorprese interessanti Ma lo sapevate che Capri è un paradiso per i tuffatori? No 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 Nel Grand Canyon invece No 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 Il Messico Con un tuffo di gruppo spettacolare No 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 No